Ecco accendo la telecamera, grazie Presidente, io trovo alquanto paradossale un po' la discussione che si sta svolgendo in aula, la trovo paradossale perché vedo che dai consiglieri di Fratelli in Italia e delle opposizioni ci accusano, accusano la maggioranza di non stare sul pezzo relativamente ai problemi della città per quanto riguarda il Covid e su cui loro, secondo loro noi dovremmo stare e su cui in realtà sono state fatte molte cose, ma allo stesso tempo stanno facendo ostruzionismo, per cui stanno facendo perdere tempo alla città, questa è una cosa per carità e nelle loro prerogative, per cui noi ascoltiamo, partecipiamo, però non ci accusassero a noi che non stiamo sul pezzo della città, perché questa è una delibera che con una seduta può tranquillamente essere votata e se non verrà votata in una seduta è per effetto dell'ostruzionismo che le opposizioni stanno facendo a questa delibera, ostruzionismo che delle volte alcune forze politiche tentano di avere il piede in due staffe, cioè da una parte vogliono stare con gli animalisti o dicono o pubblicano che stanno dalla parte con gli animalisti, dall'altra fanno ostruzionismo a una delibera che tenta di tutelare soprattutto il benessere degli animali, andando a circoscrivere in modo preciso e puntuale per permettere sia il servizio, ma allo stesso tempo anche che la dimane possa svolgere l'attività nella maniera più consona e migliore per la salute dell'animale stesso. Per cui questa è una contraddizione, si presentano decine e decine di emendamenti, si chiedono gli interventi in dergo eccetera e poi dite, ma voi perdete tempo per la città. No, chi sta facendo perdere tempo e se ne assume la responsabilità di fronte alla città è chi ha questi atteggiamenti di far perdere tempo all'Assemblea Capitolina in un momento del genere dove ci sono moltissimi atti, dove lo avete detto anche voi, lo sappiamo tutti, che l'attività dell'Assemblea che si svolge in maniera telematica ha dei rallentamenti, ma è inevitabile questa cosa purtroppo e voi ci mettete il carico sopra, per carità è nelle vostre prerogative farlo, però ben assumete la responsabilità. Noi non diciamo che chi ha svolto questo servizio sono dei criminali, no, assolutamente. Il problema è che effettivamente lo sviluppo della città, per come si è svolto tutto, ma anche la stessa sottolineatura che ha fatto il consigliere De Priamo sulle notizie che hanno dato i telegiornali su quello che sta facendo l'Inghilterra, ma anche noi a Roma abbiamo messo dei paletti relativamente ai diesel per la città e lo abbiamo fatto prima, questo l'ha fatto proprio l'amministrazione Capitolino, la Sindaca Raggi e l'assessore alla mobilità. È ovvio che si va in una certa direzione, ci sono delle situazioni che oramai verso tutto quello che va, verso questo sviluppo, vanno in contraddizione e allora bisogna trovare delle soluzioni. Effettivamente si è sperato in una soluzione legislativa nazionale, però visto che questa amministrazione ha interesse a portare avanti l'obiettivo, ma soprattutto ci tiene che ci sia un cambio di passo relativamente a questo tema, è ovvio che a questo punto si porta la delibera in aula e questa è una cosa assolutamente importante. Per quanto concerne la botticella elettrica, io ricordo che sono state fatte, abbiamo fatto, io vado a memoria, potrei ricordare male, se non sbaglio ne abbiamo parlato anche in qualche commissione, l'abbiamo rivalutata già da qualche anno, il problema che abbiamo riscontrato sulla botticella elettrica oltre al dire di non fare niente è che noi tutto quello che troviamo che è stato fatto nel passato, nelle amministrazioni di destra e di sinistra, sono tutte attività iper ingarbugliate, fatte male, male, molto male e ci ritroviamo con dei finanziamenti che sono stati non appostati nella maniera corretta e questo ha generato il problema del rallentamento della botticella elettrica che noi a questo punto dovremo necessariamente dover andare a risolvere, un po' come abbiamo fatto su tantissimi altri argomenti. Per cui non c'è nessuna giustificazione che le opposizioni vogliono trovare rispetto al nostro agire non trovassero giustificazioni a noi, non ce ne sono, l'impegno di questa amministrazione per il rispetto degli animali è un impegno fermo, costante, nonostante ci sia stato questo evento increscioso che c'è stato sui cinghiali, una cosa bruttissima, su cui le responsabilità a questo punto anche noi chiediamo che vengano certificate per bene, però al di là di questo non c'entra niente, ovviamente sono scuse che hanno le opposizioni per cercare di addossare a noi delle responsabilità e giustificare la delibera, non dobbiamo giustificare niente, è una cosa che diciamo dalla campagna elettorale, ci abbiamo orato per anni, si è pensato anche che si potesse arrivare a una soluzione a livello normativo nazionale, non è ancora arrivata, a questo punto noi coerentemente andiamo avanti, su questo c'è stata una coerenza totale per cui riteniamo che questa delibera sia una soluzione per poter rispettare sia gli animali, ma anche ovviamente le persone che lavorano con questi animali, c'è tra l'altro io lo vorrei anche dire, noi ne abbiamo parlato in commissione, abbiamo detto diverse cose in commissione, c'è la proposta di un emendamento su cui tutta la commissione si è espressa favorevolmente, vedremo come va l'emendamento, se no c'è anche l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia su cui abbiamo già dichiarato il nostro assenso, vogliamo andare in quella direzione a dare un contributo economico alle persone che dovessero fare una scelta di passare la propria licenza ad una licenza taxi, per cui si capisce anche la difficoltà di queste persone e nessuno vuole, che nessuno vuole criminalizzare, ma anzi trovare delle soluzioni per risolvere, io ringrazio i consiglieri che hanno fatto queste proposte in commissione su cui tutta la commissione si è trovata d'accordo, io chiedo di non trovare a pretesto argomenti non consoni in assemblea soltanto perché si deve parlare per 45 minuti relativamente a come è andata la commissione, su come si sono votati gli emendamenti, in realtà c'è stato un momento di confusione e questo bisogna oggettivamente dirlo perché c'è stato un attimo dove non sono state chiare le cose, ma poi è ovvio che abbiamo fatto assolutamente chiarezza sulla modalità di voto, gli emendamenti tranquillamente vengono votati come i verbali dove le persone possono dire se si votano 3 verbali, 5 verbali, dici io sono d'accordo a tutti e 5, se non sono d'accordo dico sono d'accordo all'1, al 2, al 3 e non al 4 e mi astengo al 5, ma è ovvio che stai facendo la votazione singola per cui in commissione è stato concesso a tutti di votare singolarmente gli emendamenti è che ogni consigliere quando ha espresso il proprio voto lo ha dichiarato in una volta sola dicendo sono d'accordo a tutti gli emendamenti oppure sono d'accordo a questo e non sono d'accordo a quello, per cui c'è stata la possibilità di votare gli emendamenti singoli come avviene normalmente per i verbali, per cui chiederei di non fare, come dire trovare dei pretesti per attaccare, dei pretesti per cercare di trovare delle scuse e parlare e soltanto parlare, in realtà la votazione è stata assolutamente regolare, noi stiamo andando in una direzione, la direzione che abbiamo sempre avuto, c'è chi come altri partiti che adesso fanno istruzionismo, che si dichiarano per la difesa degli animali, ma adesso in realtà fanno l'esatto opposto, perché questo è, perché io posso anche capire, guardi lo dico proprio lei consigliere di apriamo, posso anche capire che ci possano essere delle perplessità, le perplessità stanno nell'ordine delle cose, ci mancherebbe, non è questo il punto, ma il punto di fare ostruzionismo, il punto di presentare tutta la discussione così come la state presentando è ostruzionismo e che la dice lunga sulla vostra disponibilità a essere a favore degli animali e di essere dalla parte di alcune associazioni che da anni si abbattono per queste cose rispetto all'argomento che stiamo trattando. Pertanto questa maggioranza ovviamente sostiene questa delibera, è un passaggio veramente delicato, io dico che sarebbe opportuno anche un po' per carità, poi si fa tutto quello che si deve fare, ci mancherebbe altro perché poi è una prerogativa, chiudo Presidente, è una prerogativa dei consiglieri, dei gruppi poterici presentare emendamenti, presentare tutti quanti gli atti che ritengono opportuno, però visto anche per come è andata la discussione, visto che in realtà si sta facendo veramente ostruzionismo e c'è questo momento di difficoltà del Covid che un po' rallenta le attività, sarebbe opportuno che si ritirassero un po' di emendamenti e si cercasse di far sì che la discussione sia più liscia, più tranquilla nel rispetto ovviamente delle opinioni di tutti. Grazie Presidente, io ho terminato.